Quella di rovistare tra le robe vecchie è una pratica che a volte riserva sorprese. C'è chi ha trovato quadri e disegni famosi, persino di Picasso e di Leonardo, c'è chi trova appunti di scrittori e di letterati, manoscritti e poi chi trova soldi e titoli di credito. Nella maggior parte dei casi ci si imbatte in grandi o piccole fortune che qualche volta cambiano perfino la vita di chi, come si dice, è baciato dalla dea bendata. Stavolta la fortuna è finita nelle mani di una religiosa suor Cristina che nella vecchia casa di Ferrazzano dei suoi genitori si è imbattuta in due buoni postali. I titoli da 50 milioni l'uno nascosti in un armadio alla larga da occhi e mani indiscrete avevano la data di emissione stampata il 10 ottobre del 1986. Suor Cristina che ha preso i voti da una decina d'anni quando i suoi genitori hanno sottoscritto quell'investimento alle poste aveva 11 anni ma di quei titoli ignorava persino l'esistenza. Dopo aver vissuto a Campobasso ha preso la strada di Roma e ha indossato la tunica all'istituto delle suore orsoline della capitale. Scomparsi entrambi i genitori lei figlia unica ha raccolto le ultime cose anche nella vecchia casa che il padre aveva a Ferrazzano dove ha trovato i buoni. Si è rivolta la fondazione italiana risparmiatori che in breve le ha ricalcolato l'investimento. In 31 anni il valore dei buoni di 100 milioni di lire è stato rivalutato in 637 mila e 514 euro. Somma che un mese fa è stata accreditata alla religiosa che però proprio perché suora non può possedere denaro dunque la decisione di suor Cristina di devolvere la somma in beneficenza. Un gesto che le ha regalato oltre alla gioia del dono anche la ribalta della cronaca. Stavolta la fortuna ha visto lungo e i soldi serviranno sicuramente a chi ne ha bisogno grazie alla misericordia di suor Cristina.